L'ultima voce che vogliamo sentire è quella della Venture Capitalist, quindi darei la parola a Roberto Magnifico di Elle Venture Group che ci parlerà di questo aspetto che non abbiamo ancora toccato, quindi diciamo al contrario degli ultimi relatori che dicono questo è già stato detto, questo è già stato detto, qui ci sono possibilità di sentire delle cose nuove, non che in realtà poi non siano state dette, ognuno devo dire ha dato degli spunti assolutamente originali, di questo vi ringrazio. Roberto. Grazie, sono contento di essere l'ultimo di questo team. Allora, inizio subito per dire che appunto ho fatto 22 anni di investment banking, scusate sto mettendo qua il contatore per essere sicuro di andare bene e di non annoiare a morte la platea, 22 anni di investment banking fra New York, Roma, Londra, torno a Roma nel 2002, 2002 e cambio, insomma decido di cambiare, di innovare, di innovare il sottoscritto e capire che strada fare per seguire da grande e di abbandonare la finanza perché la finanza l'ho vista morta, insomma, sostanzialmente. Di fatti poi arriva la crisi che tutti conosciamo, nel 2007 vado in America per capire un po' meglio da vicino, un po' più da vicino l'industria del venture capital e il ruolo che stava svolgendo negli Stati Uniti, in altri paesi come Singapore, come Israele, come avrete sentito anche da Paolo Berialdo e mi sono fatto un bel giro. Nel 2010, di fatti, vengo chiamato da Carlo Alberto Pratesi che mi dice ah, vieni, vieni alla finale di Novak Chollah, beh è una prova che stiamo facendo, è qualcosa di molto, insomma, così sperimentale però interessante. Mi sono innamorato, mi sono innamorato, nel 2011 ho fatto da mentor, ho conosciuto poi ovviamente Paolo Berialdo e Augusto Coppola, i tre founder di Novak Chollah, ora conoscete la storia di Novak Chollah. Nel 2011 partecipo come mentor, la mia squadra, il team che ha conseguito, è arrivato secondo, ha vinto il viaggio in Israele, nel 2012 decido di entrare con loro, da soli voi tre proprio non ne potete fare, insomma, è un progetto stupendo e con loro è entrato. Nel 2010, è lo stesso periodo, proprio lo stesso anno, mi chiama Luigi Capello e dice senti io sto pensando di venire a Roma a aprire un acceleratore per start-up, che ne pensi? Luigi, secondo me, visto da chi ha fatto finanza, un arbitraggio migliore di questo non esiste oggi, a Roma non lo fa nessuno e poi stiamo in mezzo a una risorsa pazzesca che sono i talenti, cioè ne sono più di 300, 330 mila studenti universitari, due o tre bravi ce ne saranno o no? Insomma, penso di sì, e quindi abbiamo deciso di avviare questa avventura che si chiamava Enlabs, poi abbiamo costituito il fondo di venture capital che si chiama Eleventure Group, quotato in borsa, abbiamo avviato l'anno scorso l'acceleratore, il nuovo acceleratore che da Enlabs diventa Luis Enlabs, alla stazione Termini, io ho pure avviato una mia start-up che si chiama Netflix, quindi mi sono innamorato di tutto ciò che è software as a service, cloud, e quindi appunto sono diventato un po' un disruptive innovation investor, speriamo. Insomma, quali sono i tre booster? Per me sono tre booster che promuovono, che fanno innovazione. La cultura, ci vuole una cultura all'innovazione, ci vuole una cultura di capire che se vogliamo cambiare lo possiamo fare soltanto noi in prima persona, non possiamo aspettare che ce lo faccia qualcun altro al posto nostro, e bisogna capire che l'innovazione non è come, scusate, come una gara alle Olimpiadi in cui se arrivi ottavo sei un atleta fallito, l'innovazione è più vicino forse al calcio, che se anche subisci, cioè tu subisci 50 reti, 70 reti durante l'anno, sei una squadra di successo, perché stai fra le prime 10 del campionato, e non sei più una squadra, insomma non sei più un fallimento, no? Quindi la cultura è capire anche che se ci sono dei fallimenti lungo la strada, quei fallimenti sono necessari per arrivare a vincere il campionato. Il secondo pilastro è quello del team, no? Qua forse qualcuno di voi conoscerà questa fotografia, Paolo e Calalberto sicuramente, insomma, ma forse anche qualcun altro, cioè è fondamentale che per portare avanti un progetto ci sia un team, e il team sia un team, come vedremo più avanti, anche multidisciplinare, e il team è un team, sono le persone, fatte di persone che materialmente portano avanti un progetto. Oggi non ci sarebbe stato, ieri oggi non ci sarebbe stato, se non ci fosse stato, Michele Misikov, e grazie a lui e alle altre persone che avendo organizzato la giornata di oggi, che oggi stiamo qua a parlare dell'argomento di oggi. E il terzo pilastro, scusate, ma quella persona lì in basso a sinistra è il fondatore di Microsoft, per chi non lo sapesse, no? Oggi è diventato l'uomo più ricco del mondo. Per cui il team è fondamentale. E la terza colonna portante per l'innovazione è quello che avrete sentito dire tante volte, è la multidisciplinarietà, cioè la cross-pollination, e quindi il mettere insieme team di persone di diversa provenienza culturale, accademica, è fondamentale per avere una probabilità di successo nella creazione, o nel sviluppo di un progetto innovativo in tempi più brevi del solito. Quindi questi sono i tre pilastri, i tre booster, che noi vediamo nella fase di selezione di un progetto quando decidiamo se investire o meno. Quindi è fondamentale capire che quando decidi di cambiare qualcosa, quando decidi di cambiare un processo, un sistema, soltanto allora capisci quanto non hai o non conosci di quel sistema. E soltanto nel momento in cui si avvia un progetto di cambiamento, di innovazione, volto a cambiare, a disrupt, perché non riesco a trovare il termine in italiano, di disrupt, come è? Sì, dirompente, però insomma non è proprio la stessa cosa, un po' dirompente che soltanto in quel momento, una volta avviato, una volta aperto una strada, che comincia a capire se quello che sto seguendo sta cercando di cambiare oggettivamente il mercato, il servizio, il prodotto che sto cercando di migliorare o cambiare. Quindi questi sono i tre innovation booster. I blocker, eccoli qua, stanno tutti qua i blockers, qua dentro, no? La pubblica amministrazione, quest'animale, la pubblica amministrazione. Sappiamo tutti quanto la pubblica amministrazione ama legiferare, regolamentare, mettere barriere, a destra manca, no? Questo è un grosso blocker. L'istruzione, no? Qui dove stiamo? Al Consiglio Nazionale delle Ricerche, notavo tra parentesi che ancora usano Windows XP, mi sembra, Windows XP, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ebbene, ma è pazzesco, no? Comunque l'istruzione è impressionante, è impressionante quanto l'istruzione, ma non è solo in Italia, un po' ovunque, si sia un po' non viene il termine, insomma, reso statico, no? Stanno lì, fanno il programma, mandano avanti questi eserciti di ragazzi allo sbaraglio, no? Cioè non si vede un'istruzione che dice cerchiamo di capire appunto quali sono i potenziali trend del futuro e se stiamo preparando questi ragazzi con gli strumenti adeguati per affrontare quello che dovranno affrontare. scusate, dove sto? Education, no? Ma ho finito i dieci minuti. Sì. Andiamo avanti. E l'imprenditoria! Qua non si salva nessuno. Anche l'imprenditoria si è smidollata. Si è smidollata l'imprenditoria. Perché? Perché si è trovata appunto in una situazione di giardini protetti, giardini murati e quant'altro, per cui o si trova come impresa a competere sui mercati internazionali e quindi in grado di confrontarsi con un vero mercato, con veri concorrenti, o altrimenti si sono del tutto smidollati. Confindustria è diventato un ministero né più né meno quanto il MIUR, quanto tutto il resto della pubblica amministrazione. Andiamo avanti. Ultimo minuto. Ultimo. Fortune 1000. Negli Stati Uniti. 83, 93. 350 aziende e imprese sono uscite dal Fortune 1000. Dal 2003 al 2013 712 imprese sono uscite dal Fortune 1000. Questo che cosa vi dice? che il tasso di innovazione sta accelerando e gli innovatori sono quelli che fanno uscire queste imprese dal Fortune 1000. Stessa storia vale per le imprese in Italia e in Europa. Altre sfide quali sono? Quello appunto della disoccupazione. Dati dell'ONU. 650 milioni di senza lavoro i cui 75 milioni di ragazzi che stanno in queste aule qua escono fuori dai 18 ai 24 anni e non trovano più lavoro. Che cosa facciamo? Cosa possiamo fare? Beh appunto sono questi processi di innovazione grazie soprattutto agli ultimi dieci anni alle nuove tecnologie all'internet al cloud e forse uno dei più grossi innovatori che abbiamo qua oggi è proprio l'IBM gli fa capire che le soglie le barriere che esistono oggi che esistevano oggi che continuano ad esistere anche domani comunque stanno crollando e i ragazzi in cui noi investiamo sono consci di questo molto più consci di quanto queste barriere stanno crollando di quanto non lo siano le stesse imprese i tre golia di cui parlavo prima un esempio in cui abbiamo investito è Soundriff una startup di cui stanno parlando in questi giorni proprio anche sulla stampa perché ha vinto una causa contro chi? Contro la pubblica amministrazione contro la SIAE ok? Soundriff ha vinto una causa perché? Perché SIAE cercava di bloccare l'attività di Soundriff in questo paese velocemente poi volete Co-Contest nasce in Innovation Lab che cos'è Co-Contest? è una piattaforma una piattaforma che abilita talenti bravi dell'interio design bravi nell'architettura ad accedere al lavoro a quale prima non potevano accedere perché all'inizio in Italia sapete quanti sono gli architetti in Italia mi sembra 50.000 non lo so una cifra iperbolica e quando hanno saputo di questo progetto ma questo questa è una cosa che ci svilisce poi insomma arriva la crisi non trovano più lavoro improvvisamente grazie a Co-Contest trovano lavoro perché? perché ci sono committenti dall'altra parte che dicono che mettono i loro progetti cercano dei talenti e questi talenti finalmente riescono ad emergere grazie all'esistenza di questa piattaforma per cui questo processo innovativo di accesso a lavoro per chi era senza lavoro e è senza lavoro in qualunque punto del mondo e chi invece cerca talenti a costi più convenienti rispetto a quello che era normalmente possibile lo fa attraverso Co-Contest e di fatti la comunità europea produce questo report e nel report parla proprio di Co-Contest come Tutored è un altro di queste piattaforme che offre il lavoro a giovani talenti anche a professori universitari a studenti universitari che cercano invece dei tutor in grado di aiutarli quindi qual è il futuro insomma il futuro è proprio questo è proprio qua qui abbiamo questi tre golia e sotto questa pletora di disruptors di start-upper no? e bisogna farli lavorare insieme bisogna far lavorare insieme l'imprenditoria bisogna far lavorare insieme la pubblica amministrazione l'istruzione come quello che stai tentando di fare pure te portarli fuori no? e capire che per farli lavorare insieme forse però bisogna fare quello che hai fatto anche te Stephen cioè far uscire queste persone dalle grandi imprese dalla pubblica amministrazione o dall'istruzione farli uscire fisicamente da questi spazi e creare delle strutture esterne dove non ci sono i condizionamenti che ci sono qua dentro grazie 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 anche per questi spunti molto interessanti ultima battuta poi restituisco molto colettieri però ecco semplicemente quando vuole ci vediamo per vedere i programmi di innovazione che sta occupando la nostra organizzazione a me non piace replicare né fare i battibecchi però diciamo delle affermazioni così sparate nel nulla non le posso chiaramente condividere accettare se vuole dopo le do gli elementi per vedere quello che noi stiamo facendo per migliorare per organizzarci noi esatto lui si è risposto da solo possiamo continuare la discussione davanti a un caffè credo sì assolutamente un bel che